Ciao a tutti ragazzi, qua FedeTutorial e sono tornato finalmente con questo nuovo video. Oggi come vedete eccomi qui tornato con un argomento abbastanza particolare in cui vi andrò a mostrare come poter installare temi o comunque sia modificare il vostro dispositivo senza bisogno di un jailbreak. Spesso molti di voi mi avete fatto una domanda del genere se era possibile installare temi o modificare in qualsiasi modo il proprio dispositivo senza avere SIDA installato e senza bisogno di un jailbreak. Il modo c'è, quindi è possibile in un certo senso installare dei temi sul proprio dispositivo. Ovviamente ve lo dico subito, non è la stessa identica cosa su come installare temi su SIDA perché altrimenti nessuno farebbe più il jailbreak. Ci sono ovviamente dei limiti messi proprio da Apple che non permettono di fare determinate cose. Però vedrete che sarà possibile fare un setup molto molto bello senza il bisogno di un jailbreak. Qui infatti come sempre ho il mio iPhone 7 che come vedete non ha nessun tipo di jailbreak particolare andrò ad utilizzare tutto senza bisogno di SIDA. Detto questo non perdiamo altro tempo e vediamo subito come fare. Come sempre troverete in descrizione un link molto molto importante che vi porterà in questa pagina web. Come dico sempre mi raccomando assicuratevi di aprire questi link tramite Safari e non tramite l'applicazione YouTube del vostro dispositivo nel caso appunto stiate guardando questo video proprio dal vostro device. Una volta arrivati qui tramite Safari troverete questa pagina chiamata appunto iSkin e qui come vedete ci sono già dei temi che è possibile installare sul proprio dispositivo. Come ho già detto non sono identici ai temi di SIDA funzionano in un modo molto molto particolare che vi andrò a dire tra poco. Qui comunque ce ne sono di molti come vedete anche abbastanza belli devo dire oppure potete scorrere in basso e cliccare su Browse All Themes ma come ho già detto questi sono i più belli e i più completi. Per esempio vado a prendere questo qui chiamato Small Flat Minimal Color. Qui troviamo una breve descrizione del tema e se scorriamo in basso come vedete troviamo subito uno screenshot e qui troviamo anche la sezione Install Theme. Quindi scorriamo un po' più in basso e clicchiamo su Application Icons. Ora scorriamo di nuovo in basso e come vedete queste sono tutte le applicazioni che sono disponibili attraverso questo tema. Ora ascoltate bene molto molto importante. Se non avete una di queste applicazioni installate sul vostro dispositivo per esempio io BuzzFeed non l'ho installata sul mio dispositivo non ho l'applicazione vera originale dell'App Store quindi non la vado ad installare. Mi raccomando dovete selezionare solamente le applicazioni che avete. Per esempio come vedete qui io ho Amazon installato sul mio dispositivo eccola qui Amazon. Quindi posso tranquillamente selezionare Amazon Mobile. Una volta selezionata come vedete vi uscirà fuori anche questa textbox e qui potete anche volendo modificare il nome dell'applicazione. Se clicchiamo la X possiamo tranquillamente anche disattivare il nome quindi avremo un'icona di Amazon senza il nome cosa molto molto bella per quelli che come me preferiscono il tutto minimale senza troppe scritte oppure potete addirittura scrivere qualcosa a voi, qualsiasi cosa. anche dell'emoticon. Poi appunto scorrete tra tutte quante le vostre applicazioni selezionando quelle che avete per esempio io Dropbox non la ho Facebook sì quindi vado a cliccare su Facebook contatti e per esempio in questo caso vado a togliere tutte le scritte perché come ho già detto preferisco avere le icone senza scritte. In questo caso ce ne sono davvero molte su questo tema altrimenti su altri ce ne potrebbero essere di meno. Ripeto la cosa importante è selezionare solamente le applicazioni che avete sul vostro dispositivo e non quelle che non avete per esempio Google Drive ho anche Google Drive quindi la vado ad installare Facebook Messenger stessa cosa la vado ad installare ok ne ho selezionate abbastanza alcune ho tolto il nome altre invece l'ho lasciato una volta che avete selezionato tutte le applicazioni che volete scorrete un po' più in basso e cliccate su Install Icons a questo punto come vedete farà un breve caricamento e poi si aprirà questo profilo da installare clicchiamo su Installa in alto a destra e qui inseriamo il nostro codice con cui sblocchiamo il nostro dispositivo tranquilli è sicurissimo non vi crea nessun tipo di danno ora clicchiamo di nuovo su Installa e poi ancora Installa per l'ultima volta fatto questo clicchiamo su Fine e come vedete se torniamo nella nostra home screen scorriamo verso il primo posto disponibile che abbiamo ed ecco qui tutte le nostre icone come vedete alcune non hanno la scritta altre invece per esempio Safari e Spotify si perché l'ho lasciata e come vedete ecco qui le nostre icone per farvi capire questi sono dei semplici collegamenti come i classici collegamenti che facciamo sul nostro computer quindi per farli funzionare dovremmo anche avere l'applicazione vera e propria installata nel nostro dispositivo per esempio Spotify vado a cliccare su Spotify farà un breve caricamento e poi aprirà Spotify come vedete quella vera stessa identica cosa anche per le altre applicazioni Amazon ho visto che ha un piccolo problema non si apre l'app non ho capito bene il perché proviamo ad esempio con Safari come vedete questa funziona benissimo si apre il nostro Safari e funziona tranquillamente questi sono appunto solamente dei collegamenti quindi se volete fare un setup veramente bello vi consiglio di mettere tutte quante le icone che avete in una cartella una cartella magari anche nascosta e poi potete lasciare direttamente queste icone mostrate sulla vostra home screen in modo da farle funzionare però ripeto se cancellate Spotify l'applicazione vera dal vostro dispositivo questo collegamento non funzionerà più questa era solamente una prova come ho detto qui ne trovate altri di temi che potete installare potete scegliere tutto quello che volete ci sono altri setup magari con le icone circolari o quello che volete era giusto per mostrarvi come poter installare questi temi sui vostri dispositivi passiamo ora ad un'altra cosa molto molto bella secondo me che possiamo fare sul nostro dispositivo ovvero come creare degli spazi bianchi nelle nostre applicazioni per esempio mettiamo caso che io la prima riga non voglia nessuna app voglio semplicemente una riga bianca senza applicazioni questo come sappiamo non è permesso da Apple senza un jailbreak per farlo però vi basterà cliccare nel secondo link che vi metterò sempre in descrizione che vi porterà appunto in questa pagina qui basterà cliccare su create blank icons ora clicchiamo qui dove c'è scritto add e ci chiederà di caricare una foto per cui noi torniamo nella nostra home screen entriamo in wiggle mode tenendo premuto sopra una qualsiasi applicazione ora scorriamo tra le nostre pagine fino ad arrivare ad una pagina vuota in questo modo e a questo punto facciamo un normalissimo screenshot in questo modo ora torniamo di nuovo nel nostro sito clicchiamo su scegli file e selezioniamo la foto appunto lo screenshot vuoto che abbiamo fatto in questo momento rullino foto selezioniamo la foto e clicchiamo su upload foto a questo punto lui qui in basso ci fornirà delle icone che possiamo scaricare per creare gli spazi vuoti vado subito a farvi vedere come funzionano per esempio prendiamo la prima uno per uno per creare l'angolo in basso a sinistra vuoto appunto con nessuna icona clicchiamo e poi clicchiamo questo bottone qui al centro e clicchiamo su aggiungi a home qui mi raccomando senza cambiare nome senza far nulla clicchiamo su aggiungi tutto quello che avrà fatto come vedete è creare un'applicazione che ha lo stesso identico sfondo del nostro wallpaper quindi per esempio andiamo a prendere e trasciniamola nella prima pagina perché come abbiamo detto vogliamo la prima riga vuota prendiamola e trasciniamola qui in alto come vedete sembra che non ci sia nessuna applicazione in realtà c'è un'applicazione che però ha lo stesso identico colore dello sfondo per cui non si vede ora vado a fare velocemente la stessa identica cosa con le altre applicazioni quindi torniamo indietro prendiamo la seconda e faccio tutto questo per creare la prima riga vuota ovviamente l'operazione è sempre la stessa ok ho appena finito di salvare tutte e quattro le icone come vedete sembra che ho la prima riga vuota in realtà ci sono delle applicazioni appunto con lo stesso identico colore del mio sfondo e una volta capito il meccanismo potete sbizzarrirvi davvero come volete potete creare per esempio una riga al centro vuota o fare davvero tutto quello che volete io ho cercato di spiegarvi solamente nel migliore dei modi il meccanismo come funziona e come poter creare queste righe vuote all'interno della vostra home screen ovviamente ci vuole un po' di tempo però si riesce a creare un setup davvero molto molto bello secondo me in questo modo ultimissima cosa per personalizzare il vostro dispositivo vado a mostrarvi come poter eliminare il nome dalle cartelle basterà cliccare nel terzo link che vi metterò sempre in descrizione che vi porterà in questa pagina ora basterà cliccare dove c'è scritto click here e clicchiamo su copia una volta selezionato questo nome basterà cliccare sulla nostra cartella che vogliamo rinominare teniamo premuto clicchiamo sulla nostra cartella e cambiamo il nostro nome incollando il testo che abbiamo copiato ci verrà fuori un punto di domanda è normalissimo clicchiamo su fine e poi clicchiamo il bottone al centro come vedete a questo punto la cartella non avrà più un nome questa cosa abbinata alle icone che vi ho mostrato prima senza il nome potrebbe rivelarsi un setup molto molto bello quindi ragazzi questi erano i modi principali che è possibile utilizzare per personalizzare al massimo il proprio dispositivo senza bisogno di un jailbreak non vi ho mostrato setup particolari o cose del genere perché non volevo far durare troppo il video ma fidatevi con un po' di tempo e un po' di creatività si riesce a fare un setup molto molto bello tutto senza i bisogni di un jailbreak prima di lasciarvi vado a mostrarvi come poter cancellare queste icone nel caso vogliate farlo in un corpo solo basterà andare nelle impostazioni cliccare su generali scorrete in basso fino a trovare gestione profili e dispositivo cliccate ora sul profilo del tema che avete installato nel mio caso è questo qui cliccate su elimina profilo inserite il vostro codice e da qui cliccate su elimina fatto questo potete vedere che le icone sono completamente scomparse quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto vi sia stato utile se così vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale passate come sempre su tutti i miei social facebook telegram trovate tutti i link qui sotto nella descrizione e soprattutto la cosa più importante di tutte condividete questo video dovunque con tutti i vostri amici per far scoprire anche a loro come possono modificare il loro dispositivo senza bisogno di un jailbreak ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere e da Fede Tutorial è tutto noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale